Oggi ci immergeremo nel mondo affascinante dell'astrologia per scoprire cosa riserva il destino per voi. Con le stelle come nostra guida, esploreremo le previsioni astrologiche per la vostra giornata. Siate pronti a scoprire le previsioni dell'oroscopo per il vostro segno zodiacale e a farvi ispirare dalle influenze celesti. Segno Ariete Esistono periodi che appaiono insormontabili, ostacoli imbalicabili. Ma tu, Ariete, sei la dimostrazione vivente che non è mai come sembra. La tua forza interiore è di una potenza inaudita. Oggi concentrati su due aspetti cruciali, i tuoi desideri più profondi e la tua identità. Ascolta il tuo animo, comprendi chi sei realmente e cosa brami ardentemente. Una volta acquisita questa consapevolezza, non aver paura di osare. È fantastico sognare, ma ad un certo punto è necessario aprire quel cassetto pieno di desideri e trasformarli in realtà. Ricorda, quella sfida che stai affrontando, quell'incomprensione che ti tormenta, quella sensazione di debolezza, tutto questo si tramuterà nella tua più grande fonte di energia quando otterrai la vittoria. E tu la otterrai, perché sei un Ariete, un guerriero destinato al trionfo. Giornata ricca di spunti interessanti, soprattutto in ambito sentimentale. Le stelle, favorevoli alle emozioni, potrebbero risvegliare un sentimento sopito da tempo, riportando in auge una passione speciale che attendevi di rivivere, soprattutto se sei single da tempo. Periodo propizio anche per programmare la seconda metà del 2024, inizia a progettare sin da ora. Segno toro. Stai attraversando un periodo di cambiamenti, alcuni anche spiazzanti e insidiosi. Le prossime 24 ore saranno cruciali, finalmente, dopo una fase di nervosismo e indecisione, comprensibile data l'incertezza di alcune situazioni, Giove ti donerà la tranquillità necessaria per fare le scelte giuste. Affronta una questione importante in questa domenica e compirai dei passi avanti. Unico avvertimento, non rimandare decisioni cruciali a giugno. Inizia questa giornata con un sentimento di profonda gratitudine verso l'universo per tutto ciò che possiedi e per i traguardi raggiunti. Prenditi un attimo per guardarti indietro e ripercorrere il tuo cammino. Quante battaglie hai vinto? Quante avversità hai superato? Ammira il tuo presente, frutto del tuo impegno e della tua tenacia. Non focalizzarti eccessivamente sul futuro. Abbi presente che oggi sei esattamente dove speravi di essere tempo fa. È il momento di lasciar andare il passato, di perdonarti per gli errori commessi e di abbracciare la gioia. Pronuncia a te stesso, sarò di nuovo felice. Segno gemelli. Oggi è il giorno della liberazione. Lacererai le catene che per troppo tempo ti hanno tenuto prigioniero, le paure, le ansie, le preoccupazioni, il bisogno di soddisfare le aspettative altrui. Basta. Metti un punto e allontanati da ciò che ti fa soffrire. Preparati ad un futuro radioso. Realizzerai i tuoi sogni, combattendo con tenacia e perseveranza. Un giorno guarderai indietro e ringrazierai te stesso per non aver mai mollato. La fortuna è ancora dalla tua parte, una giornata storta non rappresenta una vita infelice. Abbi fiducia, il meglio deve ancora venire. La luna in quadratura potrebbe renderti nervoso e agitato. In questo caso, limitati a fare il minimo indispensabile senza strafare. Ci sarà chi vorrà provocarti o irritarti con parole o atteggiamenti sgradevoli. Sforzati di escludere queste persone dalla tua mente e di far scivolare tutto addosso. Soprattutto, cerca di non riversare questa tensione nervosa in amore, il rischio è di litigare con il partner per tutta la domenica, e non è certo ciò che desideri. Segno cancro. Stai lavorando a un progetto bello e promettente, quindi le stelle ti incoraggiano ad andare avanti con determinazione, anche se hai a che fare con soci o collaboratori in disaccordo con te. Qualcuno potrebbe ostacolarti per invidia, non perché veda reali difetti nel tuo progetto. Valuta le critiche costruttivamente, ma soprattutto prosegui senza timori. Con Venere, Marte e Giove favorevoli, le storie d'amore che nasceranno in questi giorni potrebbero avere vita lunga. Spero che oggi tu possa riconoscere che non tutto è stato brutto. Ogni esperienza vissuta ha avuto un insegnamento da offrirti. Gli errori ti hanno reso più forte, le persone che se ne sono andate hanno insegnato a dare valore a chi rimane al tuo fianco anche nei momenti più bui. Impara a dire no, quando senti di doverlo fare. Non permettere agli altri di decidere per te, subendo poi le conseguenze. Non sentirti in colpa per le scelte altrui. Ricorda che hai il controllo della tua vita e che da oggi puoi iniziare a costruire l'esistenza che hai sempre desiderato. Segno leone. Oggi ti invito a fare una scelta fondamentale, scegli te stesso. Trova la pace interiore, abbi fiducia in te stesso anche nell'incertezza. Sii felice di ciò che hai mentre aspetti ciò che desideri. Abbracciati con amore e perdona te stesso per gli errori. Non focalizzarti sui passi falsi, ma valorizza la tua tenacia e il tuo coraggio nel riprovare. Ricorda, se hai te stesso al tuo fianco, tutto andrà bene. La vera felicità risiede dentro di te, non nel mondo esterno. Cerca la serenità interiore e sarai felice ancora prima di raggiungere i tuoi obiettivi. State affrontando un periodo pieno di problemi, soprattutto sul lavoro. Stanchezza e sconforto, a tratti de motivazione, potrebbero assalirvi, ma non cedete. Le questioni da risolvere sono tante, ma non insuperabili. Fondamentale sarà il supporto di collaboratori svegli e di un partner comprensivo, persone pronte a darvi una mano concreta o semplice sostegno. Possibili tensioni o conflitti in famiglia, l'importante sarà comunicare apertamente e non tenere tutto dentro. Segno Vergine Mia cara Vergine, voglio rassicurarti, le tue preoccupazioni si stanno risolvendo da sole. Accetta che non puoi controllare tutto e la tua vita migliorerà. Non dare troppa attenzione alle paure, vedrai che svaniranno come neve al sole. Le tue ferite guariranno e la tua forza interiore tornerà a splendere. Meriti di vivere in pace, senza conflitti. La soluzione ai tuoi problemi esiste ed è in arrivo. Affida te stesso al presente, lascia andare e focalizza la tua attenzione sulle soluzioni, non sui problemi. Oggi sarà un giorno meraviglioso se solo saprai lasciarti andare e vivere il momento. Come i cancro, avete attraversato un periodo molto pesante. Marte in opposizione potrebbe alimentare dubbi e insicurezze sul futuro o su una scelta importante da prendere. L'indecisione è comprensibile, data la delicatezza di alcune questioni. Non abbiate fretta, decidere impulsivamente aumenta il rischio di rimpianti. L'amore, invece, è in fase di recupero. Concedetevi momenti felici con il partner o le persone care. Segno bilancia La vostra proverbiale diplomazia è ormai un lontano ricordo. Di fronte a persone senza scrupoli che tentano di ingannarvi, avete adottato un temperamento schietto, coraggioso, pronto a sbatte in faccia la verità a chiunque vi indispettisca. Questo atteggiamento, seppur appagante, vi toglie molte energie. Paolo Fox consiglia di recuperare un po' di tranquillità interiore, è tempo di seppellire l'ascia di guerra. Essere ancorati al passato e timorosi del futuro ti impedisce di vivere il presente. Ricorda, ciò che semini oggi lo raccoglierai domani. Concentrati sul qui e ora. Il passato è immutabile, non sprecare tempo ed energie a rimuginarci sopra. La vita va vissuta, non pensata. Ogni giorno è una nuova opportunità per essere diversi, per cambiare, per migliorarsi. Lascia andare il passato e inizia a creare il tuo futuro, concentrandoti su chi vuoi diventare. Segno Scorpione Finalmente intravedete la via d'uscita da un periodo nero in cui tutto sembrava andare storto. Il meglio arriverà a giugno, con giove non più opposto e maggiore libertà d'azione e tranquillità. Nel frattempo, Venere e Marte in pesci vi offrono la loro benevolenza. Incontri piacevoli sono all'orizzonte, non lasciatevi sfuggire questa occasione. Sei una creatura magnifica, con una grinta ineguagliabile. Voglio ricordarti che il senso di colpa per aver scelto te stesso svanirà col tempo. Fai del mettere te stesso al primo posto una tua abitudine. Meriti la felicità e non sei responsabile delle scelte altrui. Ognuno è consapevole delle conseguenze delle proprie azioni, quindi lascia andare ciò che non ti appartiene. Ripeti con me, oggi respirerò e penserò solo alle soluzioni. Non lascerò che le preoccupazioni mi controllino, nello stress mi distruga, ne le paure mi paralizzino. Avrò fiducia che tutto andrà bene. Non mi arrendo. Segno sagittario. Siete tesi, nervosi e agitati. Qualcosa vi turba, e la maggior parte di voi sa bene di cosa si tratta. Attenzione a non riversare la vostra rabbia su persone innocenti, soprattutto il partner discussioni inutili e pericolose potrebbero nascere se non vi controllate. Evitate polemiche e provocazioni inutili. Liberate la vostra rabbia parlando apertamente con una persona fidata, facendo presente che lo sfogo non è diretto a lei. Mio caro sagittario, sognatore e padrone del mondo, come stai? Spero che tu stia bene, perché è la cosa più importante. So che il passato ti ha segnato e a volte ritorna a tormentarti. Voglio che tu sappia che non sei solo. Ci sono persone nella tua vita pronte ad ascoltarti, capirti e aiutarti. Non aver paura di chiedere aiuto, non è una debolezza. Anzi, ci vuole coraggio, e tu quel coraggio lo hai. Non hai mai mollato, anche se di notte la paura ti assale. Ma in quei momenti di solitudine, ascolta il tuo intuito, il tuo istinto. Ti daranno segnali. Fidati di loro. E se vedi delle farfalle, ricorda, il tuo angelo custode veglia su di te. Segno capricorno. Come il sagittario, siete parecchio nervosi e suscettibili in questo periodo. Se qualcosa vi disturba e non vi sentite tranquilli, meglio rinviare un confronto o un chiarimento con una persona a quando starete meglio. Affrontarlo in queste condizioni sarebbe controproducente. In amore avete bisogno di una persona ottimista, con una visione fiduciosa e positiva del futuro. I più fortunati possono godersi un partner solare e dal carattere positivo. Altrimenti, dovrete attingere alle vostre forze per superare questo momento no. Ti rendi conto di essere cresciuto quando non cerchi più problemi, quando non ti importa del giudizio altrui e quando desideri solo la felicità e la pace interiore. È qui che avviene la vera crescita, non anagrafica, ma di maturità. Continua a crescere, continua a prenderti cura di te stesso, perché non c'è scelta migliore. Oggi concentrati sui tuoi obiettivi e sii paziente. Pazienza non significa immobilità, ma saper attendere con perseveranza ciò che meriti. Sei sulla buona strada, anche se ci vuole più tempo del previsto. Gli errori e le ricadute fanno parte del percorso. Riuscirai a farcela, te lo garantisco. Fidati di te stesso. Segno Acquario È tempo di fare scelte per il futuro e di affrontare tutte le novità con coraggio e fiducia. Non lasciatevi bloccare da dubbi o insicurezze. Avanzate per la vostra strada con fiducia. Avete lavorato duramente per arrivare fin qui. Ora serve lo sforzo finale per raggiungere un obiettivo o resistere alle avversità contando sulla vostra lucidità e forza interiore. Alcuni giorni saranno noiosi, ma vivrai comunque. Alcune persone smetteranno di amarti, ma tu amerai lo stesso. Alcune cose non andranno come vuoi, ma ci riproverai comunque. Alcune persone non saranno oneste con te, ma tu rimarrai comunque integro. Non permettere a nessuno di cambiare la tua essenza. Ricorda che puoi scegliere come accogliere ogni evento, con gioia o con tristezza. Sei nato senza nulla e morirai senza portare via nulla. Apprezza ogni momento, positivo e negativo, perché entrambi ti insegnano qualcosa. Rimani te stesso, una brava persona. Non importa chi lo noterà, fallo per te stesso, perché è l'unica cosa che conta. Prenditi cura di te stesso, l'unica persona che rimarrà sempre al tuo fianco. Segno pesci Spero che oggi ti senta meglio. Che tu riesca a cambiare ciò che non ti piace, a liberare la tua mente dalle preoccupazioni e il tuo cuore dalle paure. Vorrei che imparassi a riconoscere quante cose belle ci sono nella tua vita. Non ascoltare chi critica il tuo passato, una versione di te che non esiste più. Non preoccuparti del giudizio altrui, continua a crescere. Lascia che giudichino l'apparenza, non tutti meritano di conoscere la tua vera essenza. Riservala solo a chi ti apprezza per quello che sei. Marte in pesci vi sprona a prendere decisioni che avete rimandato per troppo tempo. Non si può più aspettare, siete arrivati al bivio. Sia in amore, dove qualcuno ha dubbi sulla tenuta della propria storia, sia sul lavoro, dove si sta valutando se continuare o meno un progetto o cambiare mansione azienda, preparatevi ad affrontare una profonda trasformazione della vostra vita. Non abbiate paura, come dice il proverbio, si chiude una porta ma si apre un portone.